bella raga siamo tornati con le missioni di allo in l'incubo parte 2 dobbiamo vediamo un po cosa fare distruggere gabinette allora vi consiglio come prima cosa non siamo più nella mappa del capitolo 2 quindi non c'è più la fabbrica di gabinetti qui a destra e tra l'altro vi consiglio di venire a scalini perché è l'unica città praticamente sicuramente al mondo sotterraneo non si troveranno gabinetti così come non si troveranno a colonne o al nitrodromo sicuramente ci saranno al dunsdat al castello al gran ghiacciaio ma secondo me la città più città di tutte è proprio scalini l'unica rimasta allora distruggiamo 5 gabinetti la missione si può fare anche in squadra quindi non siete obbligati a trovarli tutti e 5 voi si può fare ovviamente in più partite vediamo se qua c'è qualche gabinetto c'è una vasca ogni casa sicuramente ha un gabinetto 2 questa è una palazzina dovrebbe averli su ogni piano vediamo un po' proviamo a vedere se ho detto una cosa giusta ho detto una delle solite cavolate della crepeganza qua c'è un'altra cucina qua c'è una stanza vuota e qua c'è un altro gabinetto ok bene comunque raga tre gabinetti per adesso proviamo al piano di sopra non so se ha tre piani questa palazzina ma noi ci addentriamo nei suoi meandri vediamo questa porta qua forse un altro gabinetto il salotto la cucina stanza vuota che dà sul balcone di qua invece penso che non ci sia un gabinetto ma non si sa mai c'è il salotto e allora cerchiamo dice la cucina e qua c'è il gabinetto ok quindi quattro gabinetti vediamo all'ultimo piano se no raga cambiate cambiate casa e e la trovate easy comunque c'è la soffitta e mi sa che in soffitta gabinetti di gabinetti non se ne parla esatto allora raga bisognerà cambiare casa comunque bella e cozza il creep pega per supportare il canale mi raccomando codice creatore vander trattino altocrippi raga e se lo usate mi raccomando taggatemi sui social che trovate in descrizione e per partecipare ai contest alle ai contest alle lotterie e vincere skin e pass battaglia ciao